Anche la giornata nonostante i bufi è bella quella di bufi. Allora, inauguriamo la sede ufficialmente Matteo, prego, apri apri. Irene vieni. Facciamo il giro. C'è in tutto quello che ci deve essere, guarda che roba. Martina, ci stai a tu. Stai lì fermo. Cafferino. Per tutta la squadra abbiamo il doppio friggio in americano. Io ci fanno mille stagioni. È pieno, eh. Tutte i blocchisti pronti per tutti i nostri. Facciamo una bella grigliata. Un bel bagnetto nuovo. Invece c'è tutto per feste. C'è tutto, la doccia, l'altro qua. Prego, allora, apriamo un caffè a Matteo e Irene. L'avete vista, Matteo? Ecco Matteo, speriamo che ci sentiamo. Adesso andiamo a prendere l'ipadito nel bagagliario. Adesso andiamo a prendere l'ipadito nel bagagliario. Le facciamo una foto. Adesso andiamo a prendere l'ipadito nel bagagliario. Adesso andiamo a prendere l'ipadito nel bagagliario.